Se siete positivi non potete andarvene, dovete prenotare un test o non vi lasceremo passare. I poliziotti inglesi spiegano le regole, gli autotrasportatori infuriati degli oltre 4.000 camion e migliaia di piccoli furgoni diretti in Francia, ma bloccati a Dover in Gran Bretagna dopo le restrizioni decise per la nuova variante del coronavirus, scoperta per prima in Inghilterra. Ora i due paesi hanno trovato un accordo dopo che la stessa Commissione europea aveva invitato a trovare un coordinamento sulla questione e a rimuovere i divieti. Con la parziale riapertura delle frontiere, i primi a sbarcare a Calais, porta di Francia per chi proviene dal Regno Unito, sono stati i passeggeri bloccati sui traghetti. Da adesso in poi i divieti si allenteranno sempre di più.